ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video e tanto c'è anche la tv che sta andando perchè io e mia mamma non riusciamo a stare senza però ignoratela intanto noi io sono qui ecco a vedere i video più divertenti del mondo che mi ha scritto qua sopra let's go non bisogna ridere mi sto già venendo da ridere ma è quel famoso che faceva quelle cose scipidine e io lo voglio pappare ditelo va bene che dovete dirtelo andiamo a prendere questo allora abbiamo qui lo yoyo adesso prendiamo lo yoyo sapete lo yoyo tu lanci lui torna vediamo tu lancio questo yoyo non torna un cazzo amici allora io adesso mi devo agitare un attimo buttiamo via queste cose prendiamo penne voglio scrivere una lettera al santo padre andiamo santo padre io scrivo questa penna vedi io scrivo questa non scrive penne numero due non scrivo un ca... e allora sai cosa ti dico queste penne non scrivono cazzo amici io mi devo agitare qui non ne posso più adesso andiamo a prendere queste qui c'è scritto bene orecchiette vedete amici no io sto ridendo io sto ridendo io sto ridendo non sento più un cazzo e allora anche questa è una cazzata amici come mai sono stronzati in Italia non capisco ora abbiamo pezzo forte è scritto qui uva passa allora bene prendiamo l'uva questa uva passa vedete passa 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 e non saluta ma che cazzo possi a fare io mi incazzo e faccio e uno e due e tre a me mi ha fatto ridere troppo ora però rimane solo mia mamma in gioco amici lo squat e poi principi te e adesso è il momento di salutare tutti gli amici perchè se vado avanti così io muorro ciao a tutti senz'altro sto già esaurito ok intanto io un paio li stavo guardando vediamo sembrava una biscia è una biscia finta ahahah 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 l'altro è stato rivolto è stato rivolto no dai nooo panico paura panico paura cchisce voglio vedere Grande ragazze No questa è la vista E' troppo d'infame Che urlite Oh guarda, è un attacivo E' 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 un attacivo Finito pure questo Ho 31 video divertenti No Non spoiler Intanto Iscrivetevi a questo No Aspetta It's Roger Perchè fa video Troppo divertenti No questo non mi piace Ecco Tira solo E basta E basta Cos'è c'è? Bello Non capisce niente E poi canta Lo stesso Ma non so perchè Kids file Oh si spaventa anche il padre Visto che si è mosso anche un po' il padre Sì Però il bambino No infame no Ecco Questo è quello che si spaventa il computer Sì Se lo tippavo più Sì 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 Si è buttato adesso Oh questo è quello che ti piace a te mamma Ah che vede la sua mamma Gioia Per la prima volta Riesce a vedere bene con gli occhiali E' bellissimo questo E' bellissimo questo Babab E' il mio preferito Sì Una teiera E' una teiera Gli pisce addosso a Jason Jason è un personaggio cattivo di un videogioco che si chiama Venerdì 13 Questo personaggio che si chiama Jason deve ammazzare delle persone che si trovano nel suo bosco Ci sono anche molte case, c'è anche una casa piccola dove abita sua mamma già morta E gli dice di ammazzare tutte le persone che vengono lì E le altre persone devono cercare di scappare senza essere ammazzate Jason si può teletrasportare, sarà una cosa in cui può diventare tipo invisibile e andare molto più veloce Se non mi sbaglio è la canzone di Tocchio Tena Sì pure Godzilla Cosa c'entra? Godo! Ecco Bravo La meme La nuova meme Guardate tutti Balla Si No questo è Fa vedere Si credo un lama mamma Oh Mi fa una chitarra Ti fa ridere? Eh il cane della proteria questo Ti fa ridere? No Mi fa vedere Rasch Bravo Vedi mamma Questa si chiamano meme Vedi mamma Vedi Quella Il signore che ha fatto Ok alla fine Guardiamo questo è l'ultimo perchè abbiamo Si poi io dovrei andare a stendere Ok beh per questa volta chiudo qui e vi saluto io Cino2008 e pure mia Mamma Bensuar Aspetta ti dobbiamo creare un nome Un toponome La prossima volta dai così ci pensiamo su Ok beh per questa volta chiudo qui e ciao